Buongiorno e bentornati qui sul mio canale, che piacere rivedervi, io sono appena tornato a casa, sono andato da DHL a ritirare questo pacco perché, beh, lo avete visto, è una primizia tech e io non vedevo davvero l'ora di provare queste benedette Airpods Max e sapete perché? Perché ho sentito in rete tante di quelle fesserie, ma io dico, se vogliamo parlarne bene o male, ma almeno toccatele con mano, no? Quello che mi piace sempre fare a me, allora eccole qui per voi e per me soprattutto le Airpods Max. Ed eccole qua, fra i tanti colori disponibili io ho scelto lo Sky Blue per abbinarlo al mio Apple Watch, al mio iPhone Pro Max, è il colore che indubbiamente tra i disponibili era quello che mi piaceva di più, ma la scelta è ampia perché poi si possono andare a variare anche i colori dei cuscinetti, insomma, poi ne parleremo sicuramente più avanti, direi che la cosa migliore è andare ad aprirle. Molto bella, devo dire, la scatola per un prodotto che, diciamocelo onestamente, costa un sacco di soldi, 629 euro per un paio di cuffie, sono tanti soldi, indubbiamente, e allora sarà da capire se effettivamente vale la pena spendere tutti questi soldi per un paio di cuffie, anche se di Apple, beh, cercherò di capirlo sicuramente nei prossimi giorni quando le proverò, ma intanto andiamo a guardarcele. Uh, molto bella, c'è anche la sua sacchettina che è protetta da questa pellicola, all'interno della confezione c'è il cavo USB-C Lightning che è lo stesso ovviamente di iPhone, ma devo darvi una brutta notizia, non ci sono gli adesivi all'interno della confezione, vabbè, poco male, dai andiamo a spacchettare queste Airpods, sono davvero curioso di toccarle con mano. Beh, intanto la cover, bisogna dirlo, è super bizzarra, nel senso che è una cosa che io non avevo mai visto, sicuramente nemmeno voi, materiali davvero molto gradevoli al tatto, molto bello, mi piace tanto la colorazione blu, si abbina perfettamente, e allora andiamo a estrarle queste Airpods, una delle curiosità maggiori che avevo era proprio toccare l'archetto superiore in questo materiale che credo sia siliconico, e qui c'è la tela che poi va a contatto con la testa e devo dire che è super super morbida. Qui c'è la protezione per i cuscinetti, cuscinetti che sono ad attacco magnetico, infatti vengono via facilmente. Si è discusso molto sul fatto che sulle cuffie non ci siano dei loghi, e sinceramente bene così, perché sennò sarebbero state super tamarre, ma come faceva giustamente notare il mio amico Otto, che le ha già in mano da qualche giorno, c'è un piccolo loghino qui all'interno dei padiglioni auricolari, quindi siamo sicuri che è un prodotto Apple, ma non c'era sicuramente da dubitarne. Padiglioni magnetici, lavabili, sostituibili facilmente, potete acquistarne quante ne volete, di diverse colorazioni per sbizzarrirvi, certo non costano poco nemmeno i padiglioni, ma quello insomma siamo abituati, sono accessori Apple. Struttura principale dei padiglioni auricolari che è in alluminio anodizzato, davvero di ottima fattura, con questa colorazione blu che va ad accostarsi molto bene, secondo me con l'iPhone 12 Pro, poi su Instagram magari vi farò vedere qualche foto. Archetto che ha questa finitura in metallo cromato e questo meccanismo a scorrimento senza soluzione di continuità, quindi si può farlo scorrere per trovare la perfetta configurazione da mettere in testa e allora proviamole queste Airpods. Beh già solo così isolano tantissimo, sono super comode. Avevo sentito in rete qualche commento relativamente al loro peso, in effetti insomma si sente che è un prodotto solido fatto in metallo, però in testa almeno così i primi secondi, non sembrano molto pesanti. Ho già aggiornato il mio iPhone 12 mini, quanto lo amo ragazzi, quanto lo amo, a 14.3 che è l'ultimo aggiornamento disponibile per accoppiare le cuffie, allora vediamo se... ok, connetti, tieni premuto il tasto, connesse, bellissimo. Beh questo sicuramente è uno dei valori aggiunti no, di avere un prodotto Apple proprio perché va integrarsi veramente in maniera profonda con l'ecosistema Apple, non solo con iPhone ma con tutti i dispositivi di Apple e qua già mi fa capire che una delle caratteristiche sulle quali vogliono maggiormente puntare è l'audio spaziale, che non so se l'avete mai provato, io sì, sia con la mia Apple TV ma soprattutto con l'iPad Pro guardando dei programmi di Apple TV Plus, beh veramente è impressionante l'audio spaziale, se potete provatelo perché è interessante. E qui ho la possibilità di controllare sia la modalità di riduzione del rumore che è praticamente la stessa delle AirPods Pro, quindi cancellazione del rumore, modalità disattivata e trasparenza che fa passare i suoni esterni e poi chiaramente la possibilità di attivare o disattivare l'audio spaziale appunto con i dispositivi e i programmi TV compatibili. AirPods Max che hanno ben otto microfoni per gestire la riduzione del rumore, otto microfoni che sono sparsi qui sulla scocca degli auricolari e su quella destra c'è appunto il tasto di accensione e la digital crown che è praticamente molto molto simile a quella di Apple Watch per gestire poi le varie funzioni. A questo punto io sono impaziente di provarle. Certamente utilizzare Spotify non è il modo migliore, io per fortuna ho un abbonamento anche a Tidal anche perché Apple parla di audio ad alta fedeltà insomma bisogna un attimino capire perché qui parliamo di wireless e wireless e alta fedeltà non vanno molto d'accordo ma ho la fortuna di poter utilizzare Tidal con file in alta risoluzione quindi poter fare un ascolto che sia un po' più credibile su un paio di cuffie che comunque sono ad alte prestazioni come appunto queste AirPods Max che beh lo vediamo sono completamente diverse da qualsiasi tipo di cuffia che abbia mai provato in questi ultimi anni soprattutto per quelle che sono le sue caratteristiche di design sicuramente inconsuete con appunto la particolarità di avere due unici tasti di non avere una superficie touch e questa secondo me è una cosa positiva perché la superficie touch può essere comoda sì però la si tocca per sbaglio se ti appoggi potrebbe creare dei problemi in questo caso abbiamo un tasto che è appunto quello di accensione poi la digital crown con la quale gestire il volume col doppio tocco andare avanti di un brano triplo tocco tornare indietro ora se io le metto alle orecchie dovrebbe partire la riproduzione in automatico in teoria immediata la riproduzione è immediata sono molto più rapide anche rispetto alle airpods e le airpods pro appena le metti alle orecchie passano subito in connessione cuffie che rimangono sempre in standby fin tanto che non vengono messe all'interno del loro cofanetto di trasporto indubbiamente inconsueto bello devo dire per quello che è il suo design e la sua particolarità ma mi lascia un attimino perplesso per alcuni aspetti come il fatto che restino scoperte alcune zone qui che potrebbero magari danneggiarsi o i padiglioni che potrebbero eventualmente sporcarsi così come il manico allora in teoria apple dice che sono tutti materiali lavabili i padiglioni sono lavabili e sostituibili quindi non dovrebbe esserci problema e questo silicone è dato come molto resistente ma questo lo scopriremo solo nel tempo restano ovviamente liberi i comandi e la porta lightning per la ricarica batteria che sulla carta dovrebbe durare circa 20 ore quindi una giornata intera di ascolto senza alcun problema certo è che mettendole in uno zaino insomma buona parte delle cuffie rimane scoperte questa cosa mi preoccupa un po bisogna sicuramente trasportarle con maggiore cura non si può buttarle in una borsa in uno zaino così perché insomma un paio di cuffie così preziose vanno sicuramente preservate e certo aver avuto magari un cofanetto che le proteggesse del tutto sarebbe stata una cosa migliore secondo me ma sappiamo che apple queste soluzioni non le predilige come vedete appena tolte dalla loro custodia ritornano in connessione con l'iphone si accende anche il led qui sotto e sono pronte per la riproduzione riprovo nuovamente ragazzi sono straordinarie per quello che riguarda la reattività della connessione e indubbiamente è stato fatto un passo avanti secondo me anche rispetto alle airpods relativamente a quello che è l'integrazione con l'ecosistema quindi la possibilità di utilizzarle simultaneamente su più dispositivi come sapete ormai i dispositivi apple sono in grado di riconoscere anche per prossimità quindi se io adesso mi sposto vado lì al mio mac loro si connettono o comunque il mac mi chiede di connetterle automaticamente quindi questi sono tutti i vantaggi di avere un prodotto integrato appunto con il sistema di apple questo mi fa dire però che acquistarle per utilizzarle con altri dispositivi certo si può fare ma si perde un po' quella che è la magia appunto del chip h1 e di tutto quello che è il sistema operativo dei dispositivi apple come vedete vabbè con la digital crown si gestisce il rumore con il tasto si può andare a variare quella che è la gestione della riduzione del rumore passando da cancellazione del rumore a trasparenza devo dire che sono comode coprono bene l'orecchio io non ho un orecchio molto grande non ho problemi a utilizzare le cuffie over here quindi sicuramente mi troverò a mio agio certamente dovrò tenerle alle orecchie per tante ore e provarle per tanti giorni prima di parlarvi di loro giusto per non rischiare di dirvi le solite fesserie che si sono sentite in rete su un paio di cuffie che indubbiamente si costano tanto ma prima di giudicarle in bene o in male secondo me andrebbero provate per diversi giorni in tutti quelli che sono i loro ambiti quotidiani di utilizzo in viaggio a casa in qualsiasi tipo di contesto senza dubbio diamogli una chance cerchiamo di capire se effettivamente 629 euro possono essere una cifra motivata da quelle che sono le caratteristiche che in questo caso non si riducono solo alla mera qualità audio di un paio di cuffie ma qua parliamo di un prodotto più completo che va a coniugare qualità audio con qualità della riduzione del rumore con un design esclusivo con materiali particolari con soprattutto un'integrazione molto molto curata nell'ecosistema apple ma sono sicuro anche che saranno un paio di cuffie che diventeranno in qualche modo uno status symbol le vedremo probabilmente al collo dei giocatori di calcio molto presto perché volente o non volente chi le tiene al collo alla fine sbatte in faccia a tutti gli altri che ha speso 629 euro per un paio di cuffie questo è innegabile devo dire però che sono molto felice di aver scelto questa colorazione mi piace davvero molto ora le metterò alle orecchie le utilizzerò tutti i giorni e ve ne parlerò sicuramente nei prossimi giorni datemi il tempo di provarle come si deve perché non voglio fare un'accensione troppo accelerata troppo anticipata ma naturalmente sono curioso di sentire qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste cuffie soprattutto secondo voi vale la pena spendere una cifra del genere al di là della qualità che potranno avere o non avere dai fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video mi raccomando ricordatevi di lasciare un like vi ricordo anche che sul mio canale telegram sto continuando a regalare buoni amazon ogni lunedì e giovedì perciò se vi iscrivete potrete partecipare anche voi grazie da Manolo Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube